L'eleganza sfila in cascina, ieri sera a Segrate il primo evento dedicato a moda, motori e cucina in passarella abiti e accessori di alta moda a completare il quadro un'automobile di lusso per sancire il consueto binomio donne e motori presente anche il campione delle due ruote Andrea Dovizioso sul podio nell'ultimo Gran Premio di Barcellona